Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan. Il Milan è pronto a presentare i due colpi di mercato, ovviamente stiamo parlando di Pavlovich e Morata. I giorni saranno rispettivamente giovedì e venerdì, giovedì per il difensore alle ore 15.30 e venerdì alle ore 12, entrambi presentati da casa Milan. Ricordiamo che entrambi hanno firmato un contratto che li legherà al club rosso-nero fino al 30 giugno 2028. Si avvicina sempre di più il trofeo Berlusconi che si giocherà a San Siro tra Milan e Monza martedì 13 agosto alle ore 21. I biglietti sono già in vendita sul canale ufficiale del Milan e per noi che rimarremo a casa a vedere la partita la potremo vedere sul canale 5. Ci tengo a ricordarvi che stanotte si giocherà esattamente all'1.30 di notte italiana l'ultima amichevole tra Milan e Barcellona in terra americana. Stamani il nostro Ibra è stato intervistato dal The Athletics. Ha parlato della sua posizione al Milan affermando che la sua ambizione ovviamente è quella di vincere. Ha parlato anche di suo figlio Maximilian che adesso gioca come attaccante nel Milan futuro. Su di lui ha affermato di non giudicarlo come suo figlio ma giudicarlo come calciatore alla pari di tutti gli altri. Queste sono tutte quante le novità di oggi come al solito. Vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social.